buon di bella gente volevo fare vedere con piacere il regalo meraviglioso che mi ha fatto la mia dolce partner veramente un regalo strepitoso che veramente lo sognavo da parecchio uno spettacolo guardate che c'è qua il dji mini 2 è un drone niente ragazzi veramente una meraviglia ho visto tantissimi video su youtube veramente è piccolino ma fa riprese davvero eccezionali peraltro registra in 4k spettacolo apriamo 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 lo sto sconvezionando ora qua con voi ancora nemmeno l'ho aperto ad incastro come con mia che meraviglia che meraviglia che meraviglia pure la borsetta in pratica c'erano due versioni vendevano il negozio vendevano la versione normale solo drone senza borsa nudo e crudo solo il drone e ovviamente aveva un prezzo molto ribassato e poi c'era la versione che si chiama la versione combo che è super accessoriata e mia moglie mi ha regalato questo sono tante batterie perché le batterie durano poco meglio averne diversa disposizione e poi altre accessori come la borsa e costava un po di più però secondo me ne è bastano la pena e allora iniziamo ad uscire ecco qua questo è il radiocomando che meraviglia mi sembra tipo di giocare ai videogiochi quelli l'anni ottanta troppo carino troppo carino veramente che meraviglia ragazzi non vedo l'ora di poterlo provare anche se non credo che sarà facile all'inizio pensavo che era veramente un giocattolo andavi lì avviavi facevi poi vedendo alcuni video ho visto che ci vuole un po di pratica prima di imparare a usarlo bene se no si rischia di cadere giù e di non dare il drone a prima botta ecco qua ci sono altri accessori se riusciamo ad uscirvi abbiamo fatto ecco queste sono le batterie e questo questo aggeggio serve anche come non solo come carica batterie serve anche come power bank da buttare in giro e poter ricaricare batterie anche senza supporti esterni a veramente comodo ragazzi che le batterie durano solamente mezz'ora perciò averne diversa disposizione è meglio è con evitare di rimanere senza poter usare il drone in luoghi belli bello 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 e poi eccolo qua lui 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 eccolo il gioiellino ragazzi il dj ai mini 2 vero vero un gioiello avevo visto tanti video avevo visto anche ma di presenza è veramente troppo carino troppo 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 guardate che spettacolo peraltro questo drone pesa meno di 250 grammi e ha un motivo perché pesa esattamente 249 grammi ha un motivo perché sotto i 250 grammi esiste una legge che non richiede il patentino per volare perciò uno è libero di volare non dico dove vuole perché sono le zone dove si può e dove non si può però per lo meno non ci vuole le patentino e altre cose varie un po più semplice da bello bello non vedo l'ora di poter troppo sono un entry totale queste cose speriamo di riuscire a impararlo presto spettacolo spettacolo veramente speriamo di poter fare tanti bei video nei luoghi che offre la sicilia anche di mare e anche nelle montagne ci sono luoghi veramente da favore spero di potervi fare vedere tante cose carine veramente va bene ragazzi vi lascio con questa meraviglia nelle mani e che dire buon mare a tutti sempre grazie a chi mi segue e grazie veramente di esserci a tanti un bacio grande buon blu a tutti ciao ciao